Io ho fiducia negli americani, quello che hanno fatto per noi non lo dimenticheremo mai. Appena abbiamo avuto bisogno sono venuti, ci hanno bombardato, hanno fatto questo. Sì, no, ma non sono venuti con la prepotenza, no, loro ci hanno fatto scegliere, hanno chiesto volete essere invasi o sterminati e visto che non ci sapevamo decidere hanno accontentato un po' che a tutti quanti. Sì, no, ma veramente io voglio parlare bene perché sono stati generosi, ci hanno portato la democrazia, sono stati talmente generosi che per darla a noi l'oro sono rimasto senza. Vabbè, no, l'hanno esportato.